Cari amiche, buongiorno. Come vedete c'è una super promozione. In pratica, di cosa si tratta? Da oggi fino all'11 marzo potete avere uno sconto del 20% sugli articoli che acquistate. Come c'è scritto? C'è scritto Felice giorno delle donne. Celebriamo questo giorno con un evento di vendita che durerà per 4 giorni, da oggi fino all'11 marzo. Il codice che uponsa l'ha scrivendo le donne. C'è lo sconto del 20% che verrà applicato su tutti gli elementi non in promozione e non in affare. C'è in pratica sugli articoli non in sconto ma a piezopreno che è comunque super conveniente. Date uno sguardo al sito, magari troverete qualcosa che già da tempo volevate acquistare e che magari per una cosa o per un'altra non avete fatto. Quindi le offerte saranno l'offerta sarà attiva su tutti tutte le categorie che non sono in promozione. Vi aspetto, vi metterò sotto il sotto il video il link del sito. Andate a dare uno sguardo e vedete un po' di cosa si tratta. Vi auguro una serena giornata e una buona festa delle donne. Ciao!